Oggi vedremo come anticipare i potenziali comportamenti violenti del narcisista. Allora, come di consueto, volevo specificare che questa puntata è la risposta a una domanda che mi è stata fatta nei commenti. Prima di partire, però, siccome questa tematica sarà un po' pesante, se trovate che vi può innescare dei trigger, allora vi consiglio vivamente di non guardare questa puntata, cioè proprio saltatela, perché appunto potrei descrivere una situazione che state già vivendo. Quindi, ripeto, se trovate che questa puntata può essere un po' troppo pesante per voi, cioè proprio evitatela. Siccome questi comportamenti violenti si vedono di più fatti dai uomini narcisisti, questo non vuol dire che non ci sono donne narcisiste che possono avere anche loro dei comportamenti violenti nei confronti del loro coniuge oppure del loro compagno. Fatta questa precisazione, partiamo subito. Allora, la prima cosa da notare è come il narcisista è diventato particolarmente silenzioso rispetto al solito. Vedete che parla molto meno, scherza meno, vi stuzzica meno rispetto al solito. Questi sono dei segnali che stanno tramando qualcosa dietro alle vostre spalle e noterete anche che, quando provate magari a fare un'osservazione scherzosa, non reagiscono neanche a questo. Anzi, molto spesso vi danno uno sguardo estremamente glaciale, senza alcuna risposta verbale. Vi guardano quindi con uno sguardo quasi da killer e poi passano ad altro, ignorandovi completamente. Quando si comportano così, che cos'è che stanno facendo? Stanno accumulando tutte le energie negative che poi, quando meno ve lo aspetterete, vi scalieranno ad osso. Per questo che quando li vedete particolarmente silenziosi in questa maniera, iniziate a prendere le vostre precauzioni. Perché questi comportamenti potrebbero essere motivati da qualche offesa narcisistica che gli avete fatto. Quindi avete detto qualcosa o vi siete comportati in un certo modo di fronte ad alcune persone che volevano impressionare e hanno percepito che il vostro comportamento è stato qualcosa che li ha messi in imbarazzo e quindi ve la devono fare pagare. Voglio specificare una cosa molto importante. La propensione di un ascisista ad aggredirvi è direttamente proporzionale allo spazio che li lasciate prendere nella vostra vita. Quindi più spazio gli date, più intimità avete con queste persone e più vi considerano come un loro oggetto, una loro estensione, con la quale si sentono il diritto di fare quel cavolo che gli pare. Perché se non avete una certa vicinanza con loro, allora tendono a limitarsi un po' di più. Più che altro perché c'è anche un discorso di immagine che devono preservare. Non è una regola assoluta, però tenete a mente che più spazio gli date nella vostra vita, più questi si sentono il diritto di poter oltrepassare alcuni limiti senza pensarci neanche due volte. Un'altra cosa che noterete è che tendono ad essere più verbalmente aggressivi nei vostri confronti e questa volta non si nascondono neanche più dietro lo scherzo, dietro a qualche sarcasmo o cose del genere. Proprio li vedete per quello che sono veramente. E non state a pensare che ho eventualmente questo momento in cui un po' arrabbiato per altre cose che sono successe nella sua vita di tutti i giorni, al lavoro e cose del genere. No! La faccia che state vedendo in questo momento della persona che non si trattiene più quando si tratta di insultarvi, quando si tratta di farvi certe osservazioni, anche di fronte degli ospiti, questa è la vera persona che state vedendo. Per questo che non bisogna prendere alla leggera queste finestre quando si aprono e vi fanno vedere che cosa c'è dietro. Quindi in questo tipo di situazione li vedete arrabbiarsi per qualsiasi cosa. Se vi vedono parlare magari un po' troppo al telefono, si arrabbiano. Se tornate dal lavoro trovano che la cena è un po' troppo fredda oppure che è stata cucinata leggermente in ritardo, questa diventa una scusa per potervi aggredire, verbalmente. Perché la cosa da capire è che in questo momento stanno cercando tutte le scuse valide secondo loro per potervi mettere le mani addosso e poi giustificarsi di fronte alle persone quando eventualmente questa cosa verrà saputa anche da altre persone. Per questo è che gli serve la giustifica giusta per poter dire, sì io ho un po' perso la testa quella così, ma è per via di questo, questo, questo e quell'altro. Per questo che bisogna stare molto attenti a queste provocazioni, non dategli la possibilità di poter alimentare queste cose. Perché questo diventa proprio la scusa con la quale inizieranno a mettervi le mani addosso. In questi casi può diventare una scusa anche il fatto che camminando in mezzo al corridoio vi imbattete in loro per sbaglio. Questo può diventare una scusa per attaccar briga. E soprattutto, mentre vedete queste scintille che stanno cercando di innescare un fuoco, osservate attentamente le cose che non vi fanno più, le cose che non vi dicono più, i comportamenti che non hanno più. Perché ripeto, questi sono i momenti in cui state vedendo la persona vera che si nascondeva dietro la maschera. Un altro segnale importante da notare è come non si trattengono più, anche di fronte agli ospiti, a sbattere il pugno sul tavolo con violenza. Oppure a dare un pugno nel muro. Perché tutti questi gesti qua hanno una funzione ben precisa. Prepararvi mentalmente a quello che sta per accadervi. Perché il punto è questo. Loro vogliono che abbiate una tale paura di loro che non sarete in grado di reagire. Per questo è che vi preparano prima, psicologicamente parlando, in modo da farvi capire che nessuno li può fermare. Per questo è che si lasciano andare di fronte anche agli ospiti. Sono tutte comunicazioni indirette che vi stanno rivolgendo. Per farvi capire che non ci sarà nessuno ad aiutarvi o a fermarli quando inizieranno a mettervi le mani addosso. Perché appunto, molte delle volte, quando si nervosiscono di fronte alle persone, nessuno dice niente. Ci sarà eventualmente qualcuno che dirà ah ma sì boh ma calmati un attimo qua e là. Ma niente di più. Quindi quando vedete questi tipi di segnali, se convivete da poco con questa persona, iniziate a considerare di andare da un'altra parte. Oppure di avvisare i vostri conoscenti. Perché quando arriverà l'aggressione, non vedrete arrivare questa cosa. Sarete presi allo sprovvisto. Perché non è che arrivano così e vi dicono oggi è la giornata. No. Sarà quando ve lo aspetterete di meno. Eventualmente sarà mentre siete in cucina, sentirete la persona dietro di voi a dirvi una frase del tipo, ma tu che c***o pensi di essere? Come diavolo ti sei permessa di farmi fare quella brutta figura? E cose del genere. Di solito saranno frasi molto brevi. E non avrete il tempo di capire che cosa è successo. Proprio perché queste persone godono nel vedervi sorpresi, impotenti e colti in una situazione alla quale non eravate preparati. Questa cosa va proprio ad alimentare il loro falso sé. Perché alimenta quel sentimento di potenza, quella sensazione di poter dominare chiunque quando cavolo gli pare. Per questo che hanno bisogno di vedere nei vostri occhi un certo tipo di angoscia. Perché ricordiamo che si possono nutrire anche di questo. Altri segnali che potete osservare che preannunciano una violenza fisica è il fatto di puntarvi con degli oggetti quando vi minacciano. Può essere una pena, può essere una forchetta o qualcosa anche di peggio. Quando vedete queste cose anche lì state estremamente attenti. Suonate l'alarme. E noterete che quando fanno questo urlano in una maniera estremamente esagerata. Al punto in cui li possono sentire tutto il quartiere. Anche lì che cos'è che stanno dicendo. Tu da me non hai alcun scampo. Guarda come sto urlando. Mi sta sentendo anche il vicinato ma non cambia nulla perché nessuno verrà qui ad aiutarti. Ecco perché mi permetto di urlare in questa maniera in modo che mi sentano tutti perché intanto nessuno mi può fare nulla. Questo è quello che vi stanno dicendo quando li sentite urlare in questa maniera in cui li possono sentire tutti. Un'altra cosa che noterete è che vi danno sempre la colpa dei loro malumori anche se hanno origini altrove. Tutto questo serve per poter razionalizzare nella loro mente l'aggressione fisica che staranno per farvi. Quindi un altro modo in cui si può vedere questi scatti di ira, queste accuse a non finire che vi tirano adosso è come se stessero in realtà parlando a loro stessi in modo da tirare fuori il coraggio per poter passare all'atto. Per questo che non smetterò mai di dirvi che con queste cose non bisogna scherzare. Quando vedete questi segnali qua considerate seriamente di mettervi in salvo. Se queste situazioni diventano troppo ricorrenti non esitate a rivolgervi anche a chi di dovere, le forze dell'ordine, un avvocato, uno psicologo, in modo che vi dica meglio come gestire questo tipo di situazione, perché con il mio video vi descrivo le situazioni, vi descrivo gli elementi da riconoscere, però con uno psicologo professionista vi potrà dire quali sono i comportamenti migliori da attuare in questo tipo di situazione in modo da evitare il peggio. Questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che questa puntata sia stata del vostro gradimento, fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata e ci vediamo alla prossima!